Ronda Rousey è stata sospesa dalla WWE dopo i fatti di SummerSlam quando al termine del match arrabbiata per la direzione arbitrale ha messo le mani addosso al direttore di gara. Ovviamente questa notizia è in storyline, il sito WWE che ha condiviso la news ha parlato anche di una multa la cui entità non è nota e anche di una ronda che non sarà di conseguenza nella prossima puntata di SmackDown. Questo potrebbe essere utile per portare la Rousey dalla parte degli heel, dei cattivi, visto che c'è la possibilità che reagisca in malo modo a questa sanzione accentuando determinati comportamenti. O ancora si apre uno scenario nuovo che permette a Liv Morgan di trovare una nuova rivale anche solo momentanea con la quale restare occupata da qui in avanti. Poi magari addirittura sino a Clash at the Castle. Ma comunque una rivale, chiamiamola, di transizione, forse soltanto parziale o forse addirittura sino al prossimo mega evento che tenga ronda un attimino lontana e fuori dei giochi per poi rientrarvici con prepotenza. Staremo a vedere comunque la news è questa, quindi ronda multata, sospesa e fuori dalla prossima puntata di SmackDown.